Resta confermato lo sciopero generale dei dipendenti comunali di Salerno fissato per l'11 novembre prossimo. I lavoratori anche nell'ultima assemblea svoltasi in piazza Mendola avevano chiesto ancora una volta al sindaco De Luca un incontro con le parti per discutere del bilancio comunale, ma fino ad ora la richiesta avanzata dei lavoratori circa 1.350 al primo cittadino è stata ignorata. I dipendenti comunali ribadiscono che non è una questione di straordinari, ma ci sono preoccupazioni per il futuro occupazionale e per i tagli ai servizi per i cittadini? Noi abbiamo semplicemente chiesto nei punti in cui abbiamo inviato al sindaco che all'ordine del giorno non c'è la questione del salario accessorio o dello straordinario, così come si continua a dire, ma c'è l'organizzazione e la riorganizzazione di servizi. Perché a tutt'oggi è vero che grossi tagli non ci sono stati salvo la polizia municipale, che gli unici che stanno pagando in questo momento è la polizia municipale. Con la sottrazione del terzo turno a progetto è stato effettuato un terzo turno inordinario, ma sottraendo il numero del contingente nel primo turno e nel secondo turno. Ciò consiste che i vigili sono in meno la mattina e il pomeriggio per coprire il terzo turno. Questa è la prima cosa che noi abbiamo messo in discussione perché si riguarda sia la sicurezza della città che la sicurezza del vigile stesso. I dipendenti comunali vogliono certezze sulla spesa del personale, notizie del bilancio e se ci dovessero essere problemi e dunque la necessità di dover fare dei sacrifici, i lavoratori sono disponibili a parlarne e a trovare insieme delle soluzioni. Il punto essenziale, al di là dei problemi organizzativi interni, è la questione della chiarezza del bilancio. Le notizie che stesso il sindaco, l'amministrazione annuncia in tutti i momenti, è quello che voglio dire, i soldi non ci sono, si devono fare i conti con quello che c'è. E' vero che dalla finanza nazionale il governo ha tagliato molti milioni di euro al comune di Salerno. Noi vogliamo essere partecipi a questa riorganizzazione. Se ci sono problemi domani di un dissesso del comune, i primi a pagare sono i dipendenti, i cittadini. L'amministrazione voglio dire oggi ci sta, domani non ci sta più, ma il cittadino e i dipendenti sono quelli che ci stanno. Siete pronti dunque al dialogo? Sì, vogliamo essere partecipi tramite un dialogo democratico corretto nella questione del bilancio, perché dal bilancio emerge i servizi ai cittadini.